Salve a tutti ragazzi, oggi andremo a vedere il ciclo The Wild e il ciclo Wild. Lo so, precedentemente avevo già accennato il ciclo The Wild in altri esercizi, però oggi andremo a vederlo specificatamente per cosa può servire. Allora, prima di tutto includiamolo sempre nelle nostre librerie. No, vabbè, me le faccio bastare tanto. Allora, using namespace std int main. Allora, supponiamo che io voglia ripetere un'azione per un certo numero di volte, ma che non voglia inserire per questo troppi comandi. Per esempio, voglio ripetere per 10 volte un'azione, ma non ho voglia di scrivere 10 volte lo stesso comando, anche perché sarebbe brutto a livello estetico per il codice e sarebbe ingombrante a livello di memoria. Pertanto oggi andremo a vedere una soluzione di queste, per questo tipo di problemi. Allora, do, prima impostiamo che cosa dobbiamo fare, int n numero, int numero uguale 0. Adesso, io voglio raffigurare su schermo il valore di questo numero ogni volta che incrementa di valore, ma non posso mettermi a scrivere per 10 volte n++, che significa incrementa n di 1 e console output n, perché mi rifiuto personalmente di fare una cosa così ingombrante. Pertanto andremo a vedere una cosa più efficace. Do while, do while, do while significa fai finché, dopo andremo a vedere il ciclo while, che di per sé è identico, ma c'è una piccola differenza sostanziale tra i due, e dopo ve la spiegherò. N, allora, do while, fai finché n non è maggiore di 10. Quindi, ah, il punto è virgola. Quindi qui dentro ho fatto un ciclo che si ripeterà fin quando n non va oltre 10. A questo punto andremo a mettere n, anzi, console output n. Gli diciamo anche di andare a cavo, perché insomma è più bello. Poi, n++, incrementa n. Con questo io mi sono risparmiato 10 volte. Allora, questo pezzo di codice io l'avrei dovuto scrivere 10 volte, ed erano 30 righe di codice. Cioè 30 righe di codice per fare una cosa che invece ho fatto con 3, 4, 5, 6, 7, 8 righe. Abbiamo risparmiato 22 righe di codice, beh, figuriamoci un po'. E va bene. Adesso mandiamo in esecuzione e dovrebbe funzionare. Così vi faccio vedere il primo esempio. Infatti ho scordato, ha chiuso subito la finestra perché mi sono dimenticato il nostro caro vecchio. System pause. Pause. Ah, ok. Adesso ci dovremmo essere. La. No. Do, while, n. Ah, aspettate. Ho sbagliato. Finchè n, cioè, questo avevo messo una condizione impossibile. Finchè n è minore di 10. Ecco, adesso è giusto. Perché come l'avevo messo era n maggiore di 10, significa che n doveva essere tipo 20. Dopo ve lo faccio vedere come poteva andare bene quel codice. Ecco, n deve essere inferiore a 10. Fai finché n è inferiore a 10. Infatti, 0, 1, 2, 3, eccetera. Premere un tasto per continuare. Quello che avevo scritto prima sarebbe andato bene se avessi fatto tipo così. Se avessi detto che n è uguale a 20, fin quando n è maggiore di 10, decrementa di 1n. N meno meno. Infatti, 20, 19, 19, fino a 11, giusto? Adesso andremo a vedere il ciclo while, che di per sé è la stessa cosa. While n maggiore di 10, possiamo anche lasciare così. Allora, il ciclo while, nonostante la condizione, si ripete almeno una volta. Poi, se la condizione corrisponde al vero, allora lo ripete. Il ciclo while si verificherà solo ed esclusivamente se la condizione è vera. Il ciclo while ci dà modo di poter eseguire almeno una volta il pacco di informazioni che mettiamo all'interno. Il ciclo while è più ignorante. O fai così o non lo faccio. Il ciclo while dice, vabbè, per una volta lo faccio. Poi, se è come dico io, lo rifaccio. Altrimenti non lo rifaccio più. Il ciclo while ti dice, no, non lo faccio proprio se non corrisponde. Comunque adesso andremo a vedere che è la stessa identica cosa. Adesso mi direte, ma è uguale. Però vi posso garantire che in alcuni programmi di natura più complessa e lunghi, possono sostanzialmente, hanno una grande differenza applicati in programmi molto più elaborati. Possono avere un'incidenza maggiore di come è adesso. Adesso, detto questo, ragazzi, ci possiamo anche salutare qui perché il ciclo while, il ciclo while, in fin dei conti, sono solamente questo. Semmai nel prossimo video mi occuperò del ciclo for e lì però ci sarà da fare, da spiegare un pochino di cose perché il ciclo for personalmente è il mio preferito, è il più divertente. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Lasciate un like e commentate. Grazie.